Il leader della Lega martedì a Trestina, quello di Italia viva Santa Maria degli Angeli intervistato da Gaia Tortora. Matteo Salvini e Matteo Renzi saranno questa settimana in Umbria a 48 ore di distanza l'uno dall'altro. Il leader della Lega è atteso martedì alle 11.30 al mercato di Trestina e, insieme a lui, ci saranno gli onorevoli Virginio Caparvi e Riccardo Marchetti, la referente provinciale di Perugia Puletti e il consigliere comunale di Città di Castello Giorgio Baglioni. Il libro Renzi, invece, sarà giovedì alle 18 al Chiostro dell'Hotel Cenacolo di Santa Maria degli Angeli, ad Assisi, dove si terrà la presentazione del nuovo libro del leader di V. Controcorrente. Crediamo che sia molto significativo che Renzi dicono i coordinatori regionali di IV, Nadia Ginetti e Leonardo Grimani torni nella nostra regione per raccontare la storia recente della nascita del governo Draghi e per discutere sul futuro del nostro paese in una fase così difficile di rilancio dopo la pandemia. Il leader di IV sarà intervistato da Gaia Tortora. Il leader di V. Controcorrente.